Saldano per la partita di oggi al Fortress Stadium, Breda! Ma senza Densier Rasta, i Superstrikas riusciranno a scongelare il risultato? È quello che penso che sia! Sì! Sicuro di non aver visto come Rasta ha fatto quel tiro! Beh, eri proprio lì con lui, del resto! Pallone in arrivo! C'era troppa nebbia, non l'ho visto, ragazzi! Ha congelato il pallone, il capitano e anche il tuo cervello! Perfetto! Ti prego! Non possiamo più preoccuparci del pallone adesso, Shakes! Concentrati sulla partita! Siamo al Fortress Stadium! I Superstrikas stanno per scontrarsi con l'Iron Tank! Abbiamo delle notizie interessanti, Mac! Perché Densier Rasta è fuori per un misterioso infortunio! E cosa ancora più strana, Thor non è nella formazione dell'Iron Tank, anche se è in perfetta forma fisica! E la sfida ha inizio! Twisting Tiger è super a Uber! Via 9! Ho 9! Fantastica costruzione di gioco dei Superstrikas! 6X è in posizione favorevole! Riuscirà dove tutti gli attaccanti migliori della Superliga hanno fallito? Cento miglia orarie! Ce la farà a Bucker & Angler? E fine del primo tempo! I Superstrikas sono lontanissimi dal battere Mangler! Dancing Rasta! Dancing Rasta! In effetti avrebbero bisogno di Dancing Rasta, Mac, però finora non si è fatto vivo! Dancing Rasta! Dancing Rasta! Dancing Rasta! Dancing Rasta! Dancing Rasta! Dancing Rasta! Direttiva, procedi con la missione! Direttiva ricevuta! Ciao, Shakes! Salve, dottoressa! Ottime notizie! Tutti i dati sono ancora intatti! Ha con sé il pallone al momento? No, perché? Sono vicino all'obiettivo! L'Iron Tank cercherà di prendere la palla! Sta tranquillo, sono nella stanza ca... Ehi! Fatemi uscire! Non ci pensare nemmeno! No! Direttiva! Dammi il pallone! Forza, lascialo! In qualità di medico, mi prescrivo un periodo di riposo! Capitano! Quindi stai bene? Si sentiranno tutti così sollevati! E ora ci puoi dire come hai fatto a battere Mangler! Ma certo! Una cosa però... Dimmi pure! Tu chi saresti? Volevate quel pallone perché era la nostra occasione per battervi! Eh, certo! Ed era più facile che rubare Rasta! Già! Ma forse vi sarebbe convenuto! Grande! Sapevamo che sareste tornato presto! Piacere di conoscervi! Eh? Eh... Giusto, Shakes mi ha detto che siete i miei compagni! Che terribile disgrazia è questa! Come ci si può dimenticare di me? Vorrei davvero aiutarvi, ragazzi! Ma com'è possibile che io sia il capitano dei Superstrikas? Densi, Rasta! Densi, Rasta! Densi, Rasta! Densi, Rasta! Li senti? Se c'è qualcosa che può ricordarti chi sei, è questo, amico! Densi, Rasta! Densi, Rasta! Grazie, Shakes! Densi, Rasta! Shakes bello! Eh? Il vero Rasta mi chiama Shakes bello! Beh, ora dovremo fare a meno di lui, ok? Il ritorno del loro capitano, seppure a bordo campo, potrebbe essere la spinta vincente per i Superstrikas! Beh, sarà meglio che succeda qualcosa in fretta, perché ormai non rimane molto tempo! Densi, Rasta! Densi, Rasta! Sì! 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 La tensione sale! Johan Huber si fa prendere la mano con un brutto fallo! Tu e il tuo capitano non avete possibilità contro di noi! Shakespearello! Spingi la palla verso terra, Shakespearello! Non sento! Che dice? Lascia fare a me! Devi spingere la palla verso terra, Shakespearello! Senza il loro capitano, i Superstrikas sembrano disorientati! Allora, qual è il piano? Spingere la palla a terra! Geniale! No, aspetta, non è geniale per niente, anzi! Con un po' di pressione direttamente sulla palla, schizzerà veloce come un razzo! Chi ti ha suggerito quest'idea assurda? Dancing Rasta! Ma quale Dancing Rasta? È tornato in sé, è il Matador! Prima mi ha chiamato Shakespearello! Beh, non abbiamo nulla da perdere! Tranne la partita! Forza, è il Matador! Forza, Shakes! Il tempo stringe! Ultima occasione della partita! È un tiro potentissimo! I Superstrikas hanno vinto! Alla fine, Mangler è stato sconfitto! Ottimo lavoro, capitano! Bravi entrambi! Lavoro di squadra, come al solito! Coraggio, ragazzi! Torniamo a casa! Ne ho abbastanza di questo freddo! Ehi, guardate là! Direttiva! Pulite! Non ne posso davvero più di quell'altoparlante! Più veloci! Quella dell'Iron Tank è stata una performance sotto lo zero! Buona questa!